Un piano finanziario da 170 milioni di euro per riqualificare l'edilizia sanitaria per l'acquisto di macchinari tecnologici per l'Asl Toscana Centro. Un programma di investimenti pubblici per il biennio 2021-2022, suddiviso per tutte e otto le zone del distretto sanitario, quella fiorentina, impolese-valdelza, area pratese, pistoiese e valdinievole. A presentare il piano il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, l'assessore alla sanità Simone Bezzini, assieme al direttore dell'azienda sanitaria Paolo Morello Marchese. È un ottimo lavoro fatto dalla Asle guidata dal direttore Morello, ma che è testimonianza di cantieri che presto partiranno all'insegna di una sanità che sia sempre più nel sistema di sanità pubblico che caratterizza il nostro paese, ben efficiente, ben in grado di rispondere ai cittadini qua in Toscana, con le case della salute che possono essere punto di riferimento del territorio. Fra i lavori, la ristrutturazione della chirurgia del Presidio Palagio, il nuovo pronto soccorso al San Giovanni di Dio, la riqualificazione dell'area dell'ex CEPO a Pistoia, l'adeguamento sismico della Casa della Salute Morgagni, la realizzazione del consultorio presso l'Istituto degli Innocenti, la riqualificazione del distretto di Via Gramsci. Abbiamo concluso proprio ora tutto l'iter e siamo nella condizione di poter andare per aggiudicare molte gare. Le gare saranno nell'arco di quest'anno, l'inizio massimo del prossimo anno, per 170 milioni. E riguardano tutti i nostri territori, quindi ben otto zone. Una riqualificazione con l'obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti in tutti i territori della Toscana. Ci occupiamo del Covid, ma non solo del Covid, stiamo guardando anche al futuro della sanità toscana, insomma, perché circa 170 milioni di investimenti, insomma, in strutture e attrezzature tecnologiche danno l'idea, diciamo, di una sanità che non si misura solo con l'emergenza, ma che prova a guardare anche al futuro. Grazie a tutti.